Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo mercoledì 27 luglio avremo tempo instabile su buona parte del nord e nelle zone interne del centro per effetto di correnti più instabili provenienti in alta quota che sormuleranno il gran caldo e la tanta umidità situata nei bassi estrati. Il risultato sarà quindi la formazione di temporali e acquazioni anche di forte entità soprattutto in montagna sull'arco alpino però anche in pieno rapadana e al centro Italia. Anche l'Abruzzo non sarà esente da questa instabilità pomeridiana dopo una mattinata complessivamente soleggiata e ancora una volta molto calda. Ci aspettiamo la formazione di temporali localmente molto intensi. L'area più coinvolta potrebbe essere quella tra la Maiella, il Vastese, l'Alto Molise, Castel di Sangro. Insomma queste aree potrebbero essere interessate da un forte temporale pomeridiano con acquazioni intensi. Anche qualche locale grandinata e forti ratti che diventa poi in serata rapido miglioramento. Il tutto si dileguerà in qualche ora. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.